Buonasera a tutti amici di Rubrica Rosso Nera, parliamo di Isai. Come vedete nel titolo, Isai al Milan a fine stagione. È una provocazione perché negli ultimi giorni si è parlato spesso del giocatore albanese del Napoli al Milan la prossima stagione. Vi spieghiamo il motivo. Isai ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2021. È un giocatore che fa gola a diverse squadre in Serie A, poi vedremo nello specifico a chi piace. Mi piace molto perché è un giocatore duttile, è un giocatore che può ricoprire bene il ruolo di laterale destro, di terzino destro, ma può giocare anche tranquillamente a sinistra. È un giocatore giovane, classe 1994, è un giocatore che ha 27 anni, rappresenta un'ottima opportunità di calcio a mercato visto i costi. Costo zero il cartellino e un ingaggio che non supera il milione e mezzo, quindi può essere veramente un'opportunità di calcio a mercato. Nel giorno scorsi il suo procuratore Mario Giuffrida, anche il procuratore di Andrea Conti, ha parlato e ha manifestato la volontà del calciatore di non rinnovare il contratto col club partenopeo e quindi di accasarsi altrove dal 1 luglio 2021. Il Milan è interessato perché sta facendo le valutazioni attraverso il suo management sportivo su quali terzini puntare per la prossima stagione sportiva. Se i titolari sono chiari, saranno Calabria a destra e Teo Hernandez a sinistra, il futuro delle riserve del Milan sul terzini è ancora del tutto incerto. Perché a sinistra Milan cercherà un profilo da fiancare a Teo Hernandez, un giocatore di piede e mancino che abbia doti tecniche importanti, che abbia una mentalità offensiva proprio come Teo. Perché qualora Teo non ci sarà, il Milan vuole portare avanti un'idea di gioco offensiva. E poi sulla destra, dopo Calabria, il Milan sta valutando attentamente il futuro di Diogo Dalò, vedrà quali sono le condizioni e quali saranno le condizioni che riuscirà a strappare dal Manchester United. E qualora il Manchester United decida di mantenere Diogo Dalò o di non fare sconti, il Milan potrebbe puntare su Esed Isai. E quindi queste valutazioni attente stanno provando il Milan a valutare attentamente tutte le opportunità di calcio mercato, tra cui Esed Isai, che rappresenta un profilo importante perché conosce molto bene la Serie A. È un giocatore cresciuto calcisticamente in Italia e dalla stagione 2009-2010 gioca in Italia perché è cresciuto calcisticamente nell'Empoli Calcio. Dopo una parentesi, dopo l'arrivo di Sarri a Napoli, è stato portato appunto dal mister Toscano, è stato portato a Napoli ed era uno dei titolarissimi, dei fedelissimi di mister Sarri. E quindi quando parliamo di Isai, il Milan dovrà e ha una concorrenza serrata perché mi dicono che fonti laziali, che la Lazio è in vantaggio su Isai, poiché il direttore sportivo Tare, anche lui albanese, ha ottimi rapporti con il procuratore e ha ottimi procuratori con il giocatore suo connazionale. Isai però preferirebbe in questo momento un'avventura in un top club e quindi vedrebbe il Milan di buon occhio. Bisogna stare attenti alla Lazio però che la Lazio sta lavorando già attivamente al futuro e soprattutto Tare considera un giocatore, Isai un giocatore importante ed è il suo pallino. Quindi il Milan ha concorrenza serrata. Abbiamo voluto riportarvi queste indiscrizioni di calciomercato perché il Milan non ha fatto una vera e propria offerta al calciatore ma sta valutando tutte le opportunità del calciomercato. E questo è un bel segnale perché il Milan dopo questi ottimi risultati, dopo l'unità di intenti ritrovata nel management pianifica, programma la stagione sportiva anche le prossime stagioni con tutte le opportunità di calciomercato e quella di Isai chiaramente lo è. Come sempre se vi è piaciuto questo video vi chiediamo di mettermi piace, di condividerlo, di iscrivervi al canale YouTube di Rubrica Rosso Nera.